Clamoroso ragazzi miei, clamoroso, sembra che l'allenatore della prossima stagione sarà lui ragazzi, Diego Pablo Simeone Allora prima di dirvi il perché voglio spiegarvi una cosa, nel senso che io le notizie non è che me le invento Se voi non leggete, dico sempre voi a quelle persone che mi hanno criticato sotto il video che mi dicevano Eh ma tu ti inventi le notizie, se voi non leggete non è colpa mia, non è colpa mia L'hanno riportato tutti, la gazzetta, il Corriere dello Sport, le varie applicazioni tipo tutto mercato web Se voi non ce l'avete o non leggete non è colpa mia, io non è che mi invento le notizie Se no vi posso dire che arriverà Bale e poi non arriva Questa è una notizia inventata, se voglio fare il clickbait dico Bale arriva all'Inter e poi non è vero niente perché mi sono inventato il video Ok? Quando vi riporto i video è perché ho letto, ok? Chiusa parentesi Sembra che la prossima stagione sarà lui ragazzi, Diego Pablo Simeone Adesso abbiamo sempre, sempre di più confermi L'ha detto anche Linea Inter che sono molto affidabili Lo stanno dicendo tutti praticamente adesso Quindi ragazzi salvo clamorose situazioni sarà lui il prossimo allenatore dell'Inter Perché Suning gli ha offerto un assegno in bianco Il che significa assegno in bianco, che sarà lui a decidere quanti soldi prendere Poi gli diranno anche del progetto, poi lui è interista ragazzi Quindi secondo me salvo clamorosi notizie Arriverà lui alla guida dell'Inter E con lui arriverà pure l'Ele Oriali Allora su Oriali non vi do la sicurezza Perché però sono solo voci, non abbiamo certezze Questo già ve lo dico Però fidatevi che secondo me, mio modesto parere, arriverà pure lui Perché arriverà un grande allenatore come Simeone E arriverà un grande team manager come l'Ele Oriali Che secondo me mandarlo via è stato l'errore più madornale che potessimo fare Non noi tifosi, sarà per noi rimaneva vita Ma l'ex dirigenza Moratti ha fatto un errore clamoroso a mandarlo via Quindi ragazzi sono veramente super contento Molto contento Poi un'altra cosa Se fa conto Simeone non arriva Che proprio dice No guardate rimango ad Atletico Madrid Perché può succedere anche questo Arriverà Spalletti Questo è il mio modesto parere Se Simeone non arriva, ma credo che sia impossibile Arriverà Spalletti Secondo me Quindi ragazzi Finalmente arriverà un grande allenatore Arriverà un grande allenatore E siamo tutti Penso molto molto contenti Io almeno sono molto molto contento Mi dispiace Pioli Ma ragazzi come ha detto pure Biapri in un suo video Biapri che sappiamo tutti che non contesta mai Non dice mai nemmeno una parolaccia Ha detto Io non capisco certa gente come fa a dare fiducia ancora a Pioli Che ha fatto due punti in cinque partite E preferisce Brozovic a Gabigol Ha descritto perfettamente Pioli Quindi Pioli grazie per quel poco che hai fatto Che non è che ha fatto tutto questo granché ragazzi Se voi vi siete fatti influenzare da quelle vittorie Ma ha fatto quante sei, sette vittorie consecutive Otto, adesso non mi ricordo Siamo settimi Settimi a meno 15 dalla Champions E a meno 7 dall'Europa League Quindi un disastro Disastro totale La colpa non è solo sua E anche dei giocatori Ma fidatevi che se c'era Simeone con questi giocatori Non arrivavi settimo Chiuso anche parentesi Pioli Ritornando al discorso di Simeone Sono felicissimo Sono contento Spero che anche voi siate contenti Di questa notizia Che comunque sia l'avete letta tutti Oriali e Simeone all'Inter Secondo me sì Prossima stagione saranno questi I due acquisti più importanti dell'Inter Ovviamente ci sarà da fare il calcio mercato E tutte queste varie cose Niente Io vi saluto Lasciate un mi piace e un commento Grazie per i 3200 iscritti ragazzi Stiamo volando Ovviamente non mi vergogna dirlo Se ho fatto questa crescita Da 3.000 a 3.200 Oltre grazie a me E anche grazie a Luca Perché stiamo collaborando molto insieme Lui ha 11.000 iscritti Non mi vergogna dirlo Però se una persona si iscrive a un canale È perché gli piaccio come persona Spero No? Qui a Simeone è tutto Niente Vi saluto E bella